io più che mamma e papà dedicherai una piazza al nonno e alla nonna perché oggi la disfortunazione che c'è e voi l'amministrazione, noi chiudiamo i microfoni c'è un ritorno e la pepegna questi microfoni c'è un ritorno credo di spingere i microfoni consiglierà a che punto stanno le zucchine? si le zucchine, mo stanno finì per favore la pepegna può chiudere il microfono? se devi sentire, se devi vedere che si stanno accogliendo ma a tre minuti mi ha detto ma la pentola deve essere bollente è già bollente, pepegna, è già bollente, chiudi consigliere, consigliere, la sera tutti a cena dalla pepegna possiamo proseguire le zucchine saranno bruciate scusate, per favore, già qui, veramente sicuramente allora dicevo io non ho fatto più che siamo arrivati a cottura tutti quanti, altro che le zucchine grazie 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 grazie